Buonasera a tutti ragazzi, sono Marcello Zinghero68 e questo è il mio canale. Ci troviamo ancora una volta sulla mia farm e sono in compagnia degli amici del gruppo Fulminati, che adesso andranno a presentarvi. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ok, siamo in compagnia di Giuseppe e siamo in compagnia di Jackie. Allora, oggi andremo a fare l'insilato, di conseguenza dovremo tirare su il mais, formare la pula e portarla al biogas. Tanto lavoro ragazzi! Io direi di non perdere tempo e di metterci in cammino anche perché abbiamo un po' di strada da fare. Andiamo raga! Via, si parte! Ok, andiamo! Andiamo! Allora, Jackie ci fa strada. Perfetto! Andiamo, facci stare. Allora, scendiamo. Lampeggianti... Quando siete pronti mi dite che partiamo, eh! Lampeggianti accesi, luci... Via! Aspetta! Che c'è, Jackie? I lampeggianti... Mi si è rotto l'interruttore, qual è l'interruttore giusto? R1 frecetta su! No, R1... Sì! No, non va! Va beh, fa niente, Jackie, dai! Non è un problema, fa niente, vai, Jackie! Oh, ecco, si è rotto il motore! Oh, madonna! Mamma mia! Un po' regginito, Jackie, o no, eh! Ehi, ma non funziona la mia macchina! Jackie, R1 quadrato per accendere! R1 quadrato, Jackie! Gli spiega prima il condotto, se no non vado prima! Jackie, vedi il canon? Jackie! Eh, boh, amici! Andiamo bene oggi, eh! A lavorare così, eh! Ok, vai, faccio stare io! Vai! Perfetto, pronti! Ok, si parte! Piccolo inconveniente, ragazzi! Però ce l'abbiamo fatta! Via che si parte! Eh, abbiamo un po' di strada perché, ragazzi, siamo sempre la sua età storia! Io la farm ce l'ho su montagna, di conseguenza dobbiamo scendere giù a valle! Apro un po' l'immagine così vedete tutti! Marcello, ho visto che qua hai piantato gli alberelli! Eh, qui ho piantato gli alberelli, ho fatto sì, ho fatto un video col cippato, ho tagliato un po' di tronchi, ho fatto un po' di cippato, tra l'altro si è iscritto uno nuovo al canale, eh! Un certo Fabio, l'ho salutato anche nell'altro video, lo saluto anche qui, ciao Fabio, grazie ancora con l'iscrizione al canale! Perfetto! Qua hai allargato i campi? Eh, qua ho fatto un po', sì, ho fatto un po' di lavori anche perché, aspetta eh, anche perché, insomma, io sto vedendo i prezzi in questo farm non è che siano tanto vantaggiosi, allora l'unica maniera è lavorare in quantità, fare tanta roba e a quel punto di un po' di soldi li fai, eh sì! Perché, diversamente, anche perché, insomma, comprare i macchinari non è che sia molto facile, è botta di 300 mila euro, 200 mila euro, e se non lavori con la quantità, fare soldi non è facile, per niente! Eh sì, qua sono tanto quei mezzi! Questo cambio è come quello del nostro amico Cristian! Eh sì, eh! Eh, tra l'altro salutiamo il nostro amico Cristian! Aspettate che Cristian si è piantato nella montagna, eh Cristian, Jackie, Jackie si pianta nella montagna, ci stanno anche queste cose, Jackie, speriamo di arrivare con un camion aerodinamico in campo! Da, dai alberi alle montagne, Jackie ha tratto! Grande Jackie! Eh, dicevo, salutiamo, salutiamo il nostro amicone Cristian, che purtroppo è ancora in viaggio, Speriamo tutto bene, ciao frate mio! Ciao Cristian! Perfetto, ci siamo! Ma, Jackie, non è che niente per niente sei passato al battito e sei bevuto due o tre chinose, perché ti vedo un po' storto nella strada! Sì, qua, fa scoccare... Eccolo! Ebbè, vabbè! E mi sa che sì, eh! Eh, mi sa che Jackie si è fatto due o tre birre prima di venire su, eh! Beh, di più forse, eh! Ah, dici proprio che ha fatto il carico! Eh! Allora, Peppu, devi andare sulla destra! Sì! Occhio al camion, Jackie! Perfetto! Andiamo a fare sta benedetta raccolta di pula! Ok, ecco qua! Ma, ma chi gli è venuto in mente, in mente di mettere sebituniere nella partita? Dirigli allo Jackie! Non c'è, tra l'altro non si salutano neanche! Eh! Allora! Allora, qualcuno che si mette in canto a me? Jackie, mettiti alla destra! Mamma, io, fatti fare a me la metri trebbia! No, ok, vuoi fare tu? Va bene, va bene, fai tu, fai tu! Ok, Peppu si mette di fianco! Pian pianino ci organizziamo! Dai, che ce la possiamo fare! Vai, Jackie! Ah! Vai, vai, vai! Perfetto, siamo partiti! Ok, ragazzi, siamo partiti a tirare su il nostro mais, la pula! Fare il pula e poi fermentare solo a diventare infilato! Esatto, esatto, ecco, vi ha già detto tutto, frate e Peppe! Grande, Jackie, vai così, te l'appoggio! Va bene, fai piano piano! Oh, madonna! Cominciamo adesso! Puoi cominciare! Eh, gli manca il suo amico Cristian! Buonasera! 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 Sì, infatti, allora, adesso ti caricate, poi dopo vai a scaricare a te e vado avanti io! Sì, sì! Pian, pianino! Eh, ce n'è tanto da fare! Oggi faremo, come ci ha consigliato il nostro frate, Jackie, faremo la prima parte e poi sicuramente andremo a fare un altro video, faremo la seconda parte, perché non riusciamo a farlo tutto oggi, ragazzi! Il campo è grande, già il 12 era grande, ho avuto anche la brillante idea di unirlo al 13, è venuta una marea di terra, non campo! Ok, un po' di manovra! Quanto sei, Peppe? 33.000 su 59.000! Ah, eh, ne hai ancora un po', dai! Vai, vai! Metta! Mitico Jackie, non sapevo che Jackie era un grande trebbiatore, eh! Trinciatore, neanche trebbiatore, trinciatore! Eh, dai, non è che gli hanno fatto così tanto male! No, ma Jackie ci ha abituato, Jackie è ormai un sardo acquisito, ormai Jackie con l'Apio Lichinusa è di casa! Al nostro amico anche Raff! Eh, Raffa l'ho sentito stamattina, è tutto bello raffreddato, adesso non so se c'ha l'influenza, boh, non ne ho idea! Non vorrei che abbia beccato l'influenza! Qua si pieno io! Ok, adesso arrivo, eh! Oh, mi raccomando, Peppe, devi andare a scaricare, non fermarti anche tu al bar, non fare il furbo, eh! No, no! Eh, quando arrivi al biogas, fai, fai la prima corsia! Ok, eccomi qua! Perfetto, Jackie, vai! Alla grande, ragazzi! L'organizzazione regna sovrana, perfetto! Eh, 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 che succede? Ah, ok, perfetto! Aspetta! Ok, faccio manovra anch'io, così mi giro... Allora, aspettate un attimo... Un secondo, eh, Jackie, arrivo subito, un secondino... Sì, sì, va bene! Ok! Eh, ho salvato per sicurezza, perché non vorrei che succeda qualche cosa, capito? Ok! Allora, andiamo... Vai, parti pure, Jackie! Le! Eccoci qua, eh, è un po' che volevo tagliare questo mais, perché volevo... voglio far partire il biogas, riesco! No! Eh, vabbè, Jackie, sono due piantine, dai, non c'è problema! Ragazzi, Jackie non molla il colpo della serie Barcollo, ma non mollo! Il mitico Jackie! Eh, sì! Peppe, nel frattempo si è perso, secondo me si è fermato al bar, farsi un Sambuca, te lo dico io! Eh, anche quella è buona! Non da morde, Jackie! Non da morde, Jackie! Anche quella è buona, non da morde, grandissimo Jackie! Adesso lo provo a chiamare al CB, un attimo, vediamo, tanto, c'è anche nel camion il CB! Sì! Peppe! 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 Oeri, Marcello! Sto arrivando io! Ah, ecco ti! Sto arrivando, sto arrivando, no! Ah, non sei fermo al bar! No, no, no! Ok, perfetto! Guarda, l'ultima rotonda! Perfetto! Ok, così! Eh, io sono, vabbè, tranquillo Peppe, tanto sono a 35.000 su 52.000! Va bene! Oh, yes! Altra manovrina! Ci siamo quasi... Allora... Aspetta che mi posiziono, Jackie arrivo, eh! Sì! Ma Jackie, quanto, quanto ci prendi a ora per questo lavoro? Allora, diciamo, 20 euro all'ora? 20 euro all'ora, eh, ci metteremo una ventina d'ore, eh! Eh, insomma, mi costi un patrimonio, ho già capito! Va bene, dai! Va bene, va bene, va bene! Sai che non ne ho idea? Eh, ragazzi, mi rivolgo anche a voi! Se qualcuno sa cosa cosa si spende per fare questi lavori con il conto terzi, con i terzisti, comunque, e ci vuole commentare sui commenti dei video, saremo curiosi di sapere cosa spende a noleggiare questi mezzi, a far fare il lavoro al terzista. Io sono pieno, Jackie, fermati, fermati, dobbiamo aspettare a Peppe! Sono pieno! Eh, te l'ho detto che Peppe si fermava al bar! Eh, quando era vuoto, però! Così si riempie lui! Ah, dici, dopo il cassone si deve riempire anche lui, giusto? È vero? Sì, sì! Allora, aspettiamo un attimo a Peppe, aspettiamo che lo provo a richiamare al CB. Barra pesante! Ehi! Eccolo qua! Sto arrivando! Barra pesante sta arrivando! Che c'è, è pieno? Io sono pieno, stiamo aspettando a te! Sto arrivando, sto facendo il più effetto possibile! Jackie, Jackie si sta spazientando! Il tempo passa e le ore aumentano! Vedi? Il tempo passa e le ore aumentano! Jackie si sta già facendo il conto col blocchettino per i soldi! Occhio! Non è che devo pagare solo io, Peppe, eh! Paghi anche tu! Il fatto che siamo nella mia farm, paghi anche tu, eh! Eh, Jackie va pagato! Eh, sì! Eccolo là, lo vedo in lontananza! Ragazzi, sta arrivando Peppe! Guardatelo là, col camion! A 200 all'ora! Se c'è qualcuno in mezzo alla strada, vado fuori dalle balle! Ok, eccole qua! A posto? Parto? A posto! Vai, vai, vai! Ci vediamo fra un po', ragazzi! Arrivo subito! Vado a scaricare! Va bene! Va bene! Noi ragazzi, è tornato Peppe! Adesso è la volta mia! Vado via a scaricare! Speriamo di fare il più fretta possibile! Per stare subito con i ragazzi! Ecco qua! Il primo bischero l'ho incontrato! Via! Dunque, se io vado dritto di qua, dovremo arrivare tranquillamente al biogas! Io faccio questa strada qua! Sì! Allora, costeggiamo bene! Ragazzi, se c'è qualcosa, contattatemi al CB, eh! Va bene! Allora, guidiamo un po' da dentro, così! Facciamo una bella storia! Allora, dobbiamo andare al biogas! Io direi che questa è la strada migliore! Sì! Usciamo da qua! Ma viaggia anche questo trattore, però, eh! Allora, qua l'incrocio! Rallenti! Speriamo che non arrivi il treno! Ok! Via! Velocissimo! Si arriva altre... Dica, l'altra volta mi ha preso in pieno il treno, Peppe! Veramente? Sì! Sono sceso tutto sparato, tutto lanciato, pensavo di farcela, invece mi ha preso in pieno il treno! Non ti dico dove mi sono ritrovato a contrattore carrello! Ok, ragazzi, io direi che... Allora, aspetta, facciamo così! La guida interna la tiro via un attimo! Riprendiamo da fuori! Ok! Sono alla rotonda! Perfetto! Eccoci qua il biogas! Allora, andiamo a vedere dove ha scaricato il mio frate Peppu! Perfetto! Grandissimo! La prima francia fatta! Quanto sei? Nette? A 40.000 su 59.000! Eh, ragazzi, un attimo arrivo eh! Tempo di scaricare, arrivo subito! Ok! Eccoci qua! Scarichiamo vicino a Peppu! Via! Eh, io ho idea che per riempire questa dobbiamo farne tanta di roba eh! E ho visto che è grande! Mamma mia! Ma avete visto cosa sono bestioni queste? Mamma mia! Ok! Perfetto! Allora! Ritorniamo dai miei frati! Via! Ok! Forse ho preso un palo, non lo so! No, più che un palo un cartello stradale! Eh, quelli tutti si prendono! Mamma mia! E poi le strade strette con questi mezzi qua sei proprio a pelo a pelo! Ah sì sì! Ok! Siamo di nuovo vicino al treno! Oi Marce! Mi senti? Sì! Ok! Eh, io sono pieno! Arrivo, arrivo! Che famo? Sto facendo già la storia del ritorno io guarda! Inizio ad andare io? Sì sì dai, arrivo! Arrivo, arrivo! Ok! Io sono già nella storia del ritorno! Arrivando facendo Jackie! Ok, va bene! Arrivo subito Jackie! Sì sì, va benissimo! Dai, che si prende di più! Eh, Jackie oggi è quello che guadagna di più ragazzi! Allora! Eccoci qua! Due marce! Bella! Bella Peppe! Si siamo appena beccati con mio frate! E adesso raggiungo Jackie! Jackie! Non piangere! Sto arrivando! Eccomi qua Jackie! No Jackie, nel frattempo che non c'è Peppe ho preso due birri al bar, te ne passo una! Ok! Alla salute! Tanto Peppe non ci vede! Grazie! Ma il CB è spento! Anche allora! Ecco ci ha sentito! Lo sapevo io! Che fai? Me la fai di una birretta a me! Vieni! Vieni! Ne ho preso tre! Dai! Vieni! Fammi scaricare il regno! Ne ho preso tre! E stiamo lavorando! Ci vuole una birretta! Dai! Giustamente! Eh! Questo tempo che fa caldo! Eh! Vedi! Vedi! Da buon intenditore! Eh! Io direi che facciamo ancora due scariche poi ci siamo eh! Oh yes! Eh! Tanta roba ragazzi! Tanta roba! Tanta roba! Sì! Sì! Dai! Facciamo come ci ha consigliato Jackie! Facciamo due parti dell'insilato! Sennò diventa troppo lunga dopo! Sì! Ok! Magari il prossimo video spediamo che ci siano anche Raffaele e Cristian! Eh! Eh! Così capito! Magari si prende un altro e si affitta un'altra trincia con un altro camion, un altro carrellone! Adesso vediamo come organizzarci! E così facciamo magari un pochino più in fretta! Ok! Vai pure Jackie! Prima ci sta arrivando! Vai tranquillo! C'è qua la birra che ti sta aspettando! Io e Jackie ci siamo già fatti un birroncino! È vero era buonissima! Bella ghiacciata! Eh sì eh! Mi sono fermato un attimo lì al bar da Shura Maria! Mi ha detto tre birre per i miei frati! Una per me e due per i miei frati! Anche se poi mi ha detto una cosa però vabbè evito di dirla! Che ha detto? Eh! Mi ha detto che Jackie si era già fermato due ore prima! Ah! Vedi che l'abbiamo scoperto! L'abbiamo beccato Jackie! Volevo non farlo sapere nessuno! Eh! Ma lo sai che Shura Maria ormai ci conosce! Mi sa che... Come mai? Colpo di Shannon! Eccolo qua! Ripreso! Ogni tanto va via il getto della pula! Non so perché! Ogni tanto sparisce il getto della pula! Eh vabbè ci sta! Succedono anche queste cose! Io dovrei essere quasi pieno! Vediamo un po'... Sì! Sono pieno! Ok! Perfetto! Jackie comincia ad andare così scarico arriva Beppe nel frattempo! Ok! Allora! Via! Si riparte! Ecco Peppe lo giallontro! Vedo! Fermati un attimo che ti passo la birra! Vabbè! 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 Toh Peppe! Beviti questa! Vai! Grazie! Ciao bella dopo! A dopo! Ok! Allora! Andiamo a scaricare questo! Facciamo così! Ecco qua Jackie! Sorpassiamo velocemente! Via! Eh! Insomma! Tanto lavoro! Come vedete! C'è un sacco di roba! Abbiamo appena iniziato! La corsia non è grande di più! È enorme! È una roba esagerata! Io penso che a riempire quella... Non so neanche a sto punto se bastano due video! Però vabbè al limite... Sì! Ne facciamo ancora uno e poi... Se vediamo che non riusciamo a riempirla poi ci penserò io! Perché veramente c'è tanta roba! Ok! Facciamo la rotondina! Tutto bene raga? Sì! Benissimo! Ma! 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 Sarei curioso di vedere io! Vorrei che questi si fermano! Sigarettina! Panino! Birrozza! Ok! Allora! Vediamo un attimo! Ti sei scorrato il cibi acceso! Eh! Ecco qua! Eh beh! Vabbè! Ma lo lascio acceso! Perché se avete bisogno di qualcosa... Lo lascio acceso addirittura! Allora! Vediamo se riesco a passare qua! Ok! Perfetto! Vai! Scarica! Guardate ragazzi! Vi faccio vedere le corsie! E' uno sputo quello che abbiamo messo fino adesso! Non è niente di che! Una roba paurosa! Però! Vabbè dai! Pian pianino! Ok! Eh! Peppe! Quando sei pieno fermati lì! Intanto adesso arrivo! Così... Concludiamo dai! Ci siamo! Allora! Adesso arrivo! Avvicino un attimo l'immagine! Niente ragazzi! Incomincio a dirvi che... Sì! Lo facciamo due volte! Spero il prossimo video di essere un attimino magari più organizzato! Nel senso che ci siano anche gli altri! Così magari riusciamo a velocizzare un po' la cosa! Perché così in due... In tre... La vedo un po' dura! Anche se... Ringrazio i miei frati Peppe e Geki che mi stanno dando una mano! Tanto di cappello! Sempre un onore! Grazie ragazzi! E' anche un piacere! Grazie ragazzi! Eh... Niente! Dai! La prossima volta vediamo un attimino... Di coinvolgere anche frate Cristi, a frate Raffa... Magari anche Damiano... Ok fermati Dj che sono pieno! Sto arrivando ragazzi! Sono dietro la curva! Arrivo subito! Eccoci qua! Eccoci qua! Perfetto! Ok! Allora! Boh! Fermiamo così! Boh! Ragazzi! Io direi di fermarci qua! Ehm... Spero che il video sia stato di vostro gradimento! Che lo potete apprezzare! Ci vediamo un secondo video perché non la faccio finire qua! Ne faremo ancora un altro sottoconsiglio del nostro frate Geki! Ringrazio i miei frati per l'aiuto che ci hanno dato! E... Niente! Niente! E passo la parola a loro per un saluto! Dai! Ragazzi! Fate un bel saluto anche voi! Ciao ragazzi! Alla prossima! E fate qualche like ancora di più per quest'altro video! Ciao! A qualche birretta! Ok ragazzi! Dai! Un bel pollicione! Ci vediamo al prossimo video! Ciao ciao ragazzi! Ciao! Ciao ciao! Ciao!